benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto ovvero federico frusciante un canale dove si parla di cinema di musica di letteratura comunque quasi tutto legato alla settima arte quello che state per vedere è un video breve è un frusciante al cinema si chiama così perché è proprio la mia prima impressione di un film che ho appena visto in sala del quale mi va di parlare come al solito però come dico sempre nella prima impressione può essere anche cambiata e quindi questa è proprio la prima impressione il film magari alla seconda la terza la quarta visione potrebbe migliorare così come peggiorare non si sa mai però ripeto insomma questo frusciante al cinema vi va insomma di parlare di un film diciamo così indipendente e coprodotto anche dall'italia che quindi è distribuito in poche sale ma se lo avete vicino insomma magari si merita la visione quindi passiamo subito alla disanima del film di cui vi voglio parlare che si chiama per l'appunto walken esordio alla regia di alien friel un film molto particolare questo walken un film appunto che va sulla scia del thriller distopico in un certo senso dell'horror particolare ma insomma la storia è quella di anna una giovane donna che si risveglia in un letto su un'isola remota in una stanza è praticamente circondata solo dal marito james dalla signora helen e da peter che insomma li stanno dietro perché james è insomma il marito e lei è incinta praticamente però non ha assolutamente ricordi si ricorda solo il suo nome né più né meno e noi abbiamo visto all'inizio del film la stessa gettarsi in un dirupo e appunto i nostri dicono che è scivolata e volata lì sotto e che praticamente ha perso la memoria in questo atto terrificante ma che sta aspettando il figlio e che quindi deve stare calma perché non c'è niente di cui preoccuparsi perché questa isola è presente dove vive lei e loro sono la loro famiglia e quindi il film prosegue con la nostra che tranquillamente continua a vivere appunto su quest'isola e in maniera abbastanza tranquilla e cercando di imparare di ricordarsi tutto quello che magari non si è ricordata fino a quel momento finché a un certo punto non appaiono sull'isola arrivando appunto con un mezzo di salvataggio due persone che sembrano completamente sfigurate smostrate e che dopo aver detto finalmente un'isola sicura vengono ammazzati affucilati ed è lì insomma scopriamo che forse l'umanità non è poi messa così bene di più della trama non vi voglio dire perché il film comunque è un film da scoprire nel ruolo 3 di Anna troviamo l'ottima Erin Kellyman conosciuta per la serie tv Willow oppure la serie tv Toy Boy e per i film appunto solo Star Wars Story e Sir Gaiman il Cavaliere Verde è un'attrice molto brava espressivissima e il film praticamente è visto tutto dal suo punto di vista a un certo punto in un certo senso che lei è quella con cui dobbiamo empatizzare la scoperta piano piano appunto di quello che sta succedendo e la voglia appunto di salvare il bambino è veramente molto ben assemblata da una sceneggiatura che funziona molto bene appunto in questo primo atto un primo atto veramente tanta roba dove scopriamo appunto lentamente il posto lo scopriamo lentamente appunto questo luogo che è un luogo così aperto con questa apertura incredibile che però riescono a essere allo stesso tempo una chiusura totale perché per l'appunto sono come se fosse una prigione con questi fiordi con questo mare che praticamente sembra infinito attorno a quest'isola che sembra nascere dal nulla ottima anche Maxime Peake affareale è veramente un personaggio particolare difficile da interpretare e che dona molta forza anche questa a una pellicola ben assestata come ho detto nel primo atto dove appunto presenta due personaggi bravo anche nel ruolo di James Ivano Geremia è un attore di colore veramente notevole e che riesce a donare forza anche lui alla sua parte così come è interessante notare che c'è nel ruolo di Peter il nostro Corrado Invernizzi veramente in parte anche lui e comunque dentro completamente alla storia così come è interessante poi l'arrivo del personaggio del dottor Henry interpretato alla stragrande da Peter MacDonald del semi mefistoferico per un film che ripeto come ho detto è una coproduzione una produzione irlandese e italiana anche della propaganda films che è stata portata in Italia direttamente appunto dalla Blues One Entertainment che ha fatto secondo me un buon lavoro a portare questo film perché il film come ho detto nel primo atto è veramente un film molto particolare dove la fotografia di Richard Kendrick la fa veramente da padrone nel raccontare appunto i luoghi e questo posto è immerso nel niente è praticamente un'isola che sembrerebbe felice dove tutti sono incredibilmente buoni tutti sono incredibilmente uniti a questa donna finché appunto non arriveranno gli altri due e scoppierà un'idea appunto tipo la città verrà distrutta all'alba e per un film che si sposta si sposta sempre di più poi nel secondo atto lavorando appunto su ciò che la nostra dovrà scoprire perché gli ricordi che cominceranno a tornargli e tutto quello che gira intorno comincia a non convincerla troppo poi nel terzo atto esploderà un po' tutto verrà fuori la parte fantascientifica che forse è la più debole del film in un certo senso è la più tirata via che però ha una dose secondo me di interessante e di forza appunto nella costruzione comunque filmica perché il montaggio è veramente notevole del nostro Manuel Greco, Bridge Rowley e Chris Gill che fanno comunque un ottimo lavoro sono degli ottimi raccordi degli ottimi stacchi ripeto la prima scena è subito bellissima e tutto secondo me la prima mezz'ora è veramente tanta roba che si sposta lentamente attraverso questa voglia di scoprire questa voglia di tenere in tensione che lavora appunto su momenti cicocchiani con una regia interessante quadrata con dei movimenti di macchina puliti con dei bei carrelli e un bel piano di sequenza che rimangono nella testa e mi ripeto l'attrice comunque veramente fenomenale per come viene trasportata appunto da questa sceneggiatura dello stesso Alan Freire che praticamente appunto lavora su un'altra volta un tipo di survival un tipo di e diciamo così post apocalittico che va tanto di moda negli ultimi anni specie dopo il covid ma per un film che si sposta anche da quello per portare l'attenzione sul fantascientifico pure verso una rivelazione finale che si può essere un po' tirata per i capelli ma che funziona per un film che fa del ribaltamento dei ruoli appunto è una delle sue forze ma è un film che è pieno di sottotesti contro un certo tipo di complottismo ma è anche sulla disgregazione familiare che cazzo per un film ripeto che comunque è veramente ben concepito a livello di ambientazione questa ambientazione spoglia sia all'interno di queste case che sono tutte praticamente senza quasi abbellimento sia agli esterni appunto che come ho detto sono completamente liberi e danno lo sguardo aperto di uno spettatore che però si sente rinchiudere rinchiudere un'atmosfera opprimente e per la chiara idea appunto che è tutto quello che ha intorno al nostro protagonista sia chiaramente mascherato da qualcosa di molto più grande e ripeto e c'è un'idea appunto di una post umanità di una distruzione di un'idea post apocalittica in mezzo all'horror al thriller alla fantascienza tutto frullato probabilmente in qualcosa che ogni tanto può risultare indigesto ma il film comunque merita assolutamente una visione secondo me per tutti quelli che amano il certo tipo di cinema di questo tipo proprio perché ripeto gli attori secondo me se la cavano molto bene la protagonista è veramente in gambissima proprio perché comunque il film merita per una bellissima con una sonora di Ratchwell e Carasello che fanno veramente un bel lavoro sui suoni sulle sonorità che riescono a rendere il tutto ancora più spaesante ancora più avvolgente bello il montaggio di Bridge Rowley ripeto che riesce a donare specialmente in tutta la prima ora una forza enorme la pellicola l'ultima mezz'ora chiaramente un po' si va a perdere in un certo senso cercando di parlare di tantissime cose forse non le c'entra tutte però porca miseria il ritmo è quello che funziona e l'ansia c'è in un buon film niente di più chiaramente però un buon film che si merita assolutamente la visione un cinema indipendente tra l'altro ripeto come ho detto coprodotto dall'Italia infatti ha preso anche i soldi dal nostro ministero oltre che da quello irlandese per una coproduzione che funziona e ce ne fossero anche molte di più proprio perché riesce comunque a trasportarci all'interno di una storia che tutto sommato al di là dei netti difetti che può avere e riesce comunque ad essere interessante proprio perché non delinea la solita demarcazione tra buoni e cattivi ma riesce ad essere stranamente inquietante proprio nel suo modo di vivere nel suo modo di essere narrato ripeto che è nell'ultima parte dove non vi posso dire che cosa succede chiaramente esplodono determinate condizioni per cui in realtà tutto quello che abbiamo visto fino a un certo punto viene cancellato e smembrato ancora di più per portarci in una situazione veramente interessante anche proprio per come viene poi sviluppata ecco perché anche il colpo di scena finale in realtà che poi diventerà una fuga continua sarà gestito in modo da poter comunque anche lì avere una botta di attacco verso chi anche un certo tipo di scoperte le può assolutamente vendere non ci vuole assolutamente salvare l'umanità per un film ripeto che inquieta che riesce a essere anche cattivissimo in un certo senso ci sono degli omicidi che sono di una violenza notevole proprio per come sono stilizzati freddi e diretti e questa è una cosa che mi piace veramente tanto il make up poi è dell'italianissima Manuela Carredda funziona alla stragrande con la coadivazione di Sara Di Marco e tutte le parti prostetiche insomma di effetti speciali così di un'altra nostra ottima Lucia Patullo e questo dimostra che comunque noi avremmo anche in un certo senso le manovalanze e gli artisti per poter portare avanti un certo tipo di cinema e qui comunque si va avanti ripeto con una bella condizione visiva narrativa e con una bella sensazione di un film che vuol parlare come ho detto dell'animo umano che parla della maternità che parla dell'umanità in un momento in cui sembra essere nel disastro e che cerca e continua ad andare avanti esclusivamente per il profitto per il dovere tranne poi cercare di alcuni personaggi cambiare completamente posizione di fronte all'inevitabile belli gli effetti speciali visivi anche questi tutti italiani di Marco Apolloni, Andrea Battistoni, Giuliano Brega per un film appunto che tutta nella prima parte non lascia presagire assolutamente tutto quello che verrà nella seconda e quindi potrebbe essere che la nostra è rifinita in mano a una setta una setta modello eredita di Rosemary's Baby non lo sappiamo potrebbe essere rifinita in mano a qualcuno che ci fa esperimenti scientifici potrebbe essere semplicemente morta e essere in un limbo e tutto quello che andremo a scoprire poi seppur ripeto mutuato dal tanti film ci possiamo vedere ecchi di Blade Runner e botte appunto anche in un certo senso a livello atmosferico di Il Carpenter della cosa possiamo trovare tantissime cose in un film appunto che mescola tutte le visioni di un regista che probabilmente all'opera prima ci mette troppo e come tutte le opere prime in un certo senso hanno tantissime cose molto interessanti la voglia di raccontare l'amore per la propria storia, l'amore per il proprio personaggio una cura maniacale secondo me nei dettagli mai shatto il film mai in un secondo però ci sono anche tutti i rifetti dell'opera prima che sono appunto quelli di voler raccontare forse troppo di voler mettere troppo di se stessi all'interno di un film che forse andava asciugato ma resta il fatto che pur nella sua perfezione per me è un'opera obbligatoria per tutti quelli che amano il thriller fantascientifico, il distopico, per quelli che amano il post apocalittico per quelli che amano qualcosa che si trasforma sempre più attraverso un mondo che noi praticamente non vediamo mai che ci viene narrato però da immagini appunto che mostrano l'immensità del nulla e questa immensità ci ricorda appunto quanto siamo piccoli quanto in realtà possiamo far presto a scomparire in un film appunto che regala delle forti emozioni tutto il primo atto come ho detto lavora all'astra grande sulla tensione appunto sull'idea della nostra che non si fida, non si rende ben conto di tutto quello che sta succedendo ma poi piano piano nel secondo atto in realtà la fiducia comincia a prendere piede così come cominciano però a prendere piede alcune cose, alcune sensazioni che gli sembrano sempre più strane fino ripeto a delle scoperte che andranno sempre più avanti e ci porteranno in un mondo ripeto che forse è un po' troppo zeppo come ho detto di soluzioni ma che riesce comunque a essere intrigante e interessante specialmente per chi ama il genere quindi se avete questo film vicino a casa vostra primo e siccome è una produzione anche italiana con tanti italiani che ci lavorano e sarebbe il caso di farli fare un incasso perché comunque è un film un'altra volta che la Blue Swan una piccola casa ci prova a portare da noi e ci prova con forza comunque attraverso un film che è difficile comunque fu presenzato al Triash Science Fiction Festival che è un festival veramente di grande qualità e il film ripeto riesce a colpire riesce a colpire in molti punti riesce ad essere veramente freddo riesce ad entrare nell'animo umano riesce a scandagliare un'altra volta quello che mi piace a me ovvero tutto quello che si trova all'interno del genere una idea appunto di come il mondo possa essere politicamente smembrato anche dall'idea della sconfitta dello stesso per un mondo che come una società che cerca di sopravvivere ancora una volta attraverso comunque l'umiliazione e il sopruso per un film appunto che fa dei colpi di scena una delle sue punti di forza ripeto alcuni vanno a segno alcuni non vanno a segno però porca miseria il film secondo me merita assolutamente di essere visto è un film classico estivo di quelli che ce ne fossero uno a settimana cazzo e la Blue Swan merita assolutamente che il film possa riscuotere un minimo di successo proprio perché comunque ha avuto il coraggio di portare qualcosa che è coprodotto come ho detto dall'Italia e che riesce ad essere a livelli comunque dei film indipendenti interessanti che vediamo arrivare da tutto il resto del mondo quindi un'opera sostanzialmente interessante che ha i suoi difetti come ho detto ma che riesce almeno per il sottoscritto a colpire ad essere veramente solida almeno per la sua prima metà e che piano piano sì forse come ho detto disgrega un po' l'idea iniziale attraverso altre idee che potrebbero stare in altri quattro film probabilmente ma il regista ripetava tante voglie di cose da raccontare e quelle che racconta comunque sono sempre interessanti anche se a volte un po' di ratefia comunque il finale è veramente cattivo bomba e mi piace veramente il fatto che comunque sia un film che osa osa determinate cose che i film mainstream ormai non osano più dei personaggi stronzissimi un certo tipo di visione appunto che è quella femminile della nostra l'idea appunto della maternità l'idea di questa unione l'idea appunto di essere comandati di essere schiacciati da qualcosa di più grande senza potersi liberare è veramente un'idea ben strutturata ripetermelo per il primo e il secondo atto nel terzo atto il film diventa ancora più di genere quindi diventa più facile più semplice con soluzioni narrative un po' così ma il film comunque a me ha convinto e spero che convinca anche voi nel senso che comunque ripeto non è un grande film non è un film eccezionale non rimarrà nella storia ma merita assolutamente una visione se avete un cinema vicino io un consiglio ve lo do andatevelo a vedere perché comunque se amate un certo tipo di cinema questo è un film ha sostanzialmente molto cinematografico che sul grande schermo fa veramente la sua ottima figura perché ripeto il regista comunque pur avendo una sceneggiatura ben scritta che però ogni tanto si perde e va in quella dimostra veramente un grande talento nella messa in scena e tutti i reparti tecnici tra cui praticamente l'80% gente italiana dimostra in Italia si potrebbe fare di tutto perché a livello pratico la gente che sa fare il proprio lavoro c'è ma un'altra volta non ci sa la voglia insomma dei produttori di spingere speriamo che questa propria banda film Italia riesca nel suo intento di fare queste coproduzioni riuscire anche a produrre solo film italiani quindi che dirvi di più non vi posso dire assolutamente che il link è qua sotto perché ancora il film non è assolutamente uscito e quindi il link Amazon dove poter comprare i miei film naturalmente non c'è però se volete andare sotto un qualsiasi altro mio video sotto il link Amazon appunto se entrate e comprate anche una borsa per l'acqua carda comunque mi arrivava un 1% 2% a me senza che a voi mi ammetti nulla e qui sotto c'è il punzante su Patreon per avere le mini recensioni che escono giornalmente 4 appunto sul mio canale quindi donazioni su Patreon se qui sotto c'è il punzante del super grazie se qualcuno mi vuole aiutare direttamente su YouTube seguitemi su Facebook e su Instagram pensate che cazzo faccio a Giro per l'Italia e poi ripeto questo Woken è un film nuovo è un film che riesce a coprire è un film che da noi è stato presentato appunto a novembre a Trieste ha avuto un buon successo di pubblico e la critica come al solito è un po' di qui un po' di là non riesce secondo me a trattarlo come si deve proprio perché comunque con il genere sono sempre un po' più critici io invece questo tipo di genere di film lo amo specialmente quando riesce per la meno almeno per due terzi della sua durata a tenermi lì attaccato e incollato e comunque che dirvi di più andate al cinema che secondo me si amate appunto il thriller distopico l'horror di questo tipo un certo tipo di post apocalittico con un'idea appunto dell'umanità che sta disgregandosi attorno a qualcosa di più grande della stessa potrebbe essere un film che assolutamente è nelle vostre corde che quindi è da vedere su un grande schermo è stato un po' di più grande è stato un po' di più grande è stato un po' di più grande